Grazie all'utilizzo di internet, chi programma un viaggio può confrontare in autonomia le tariffe più disparate delle varie compagnie aeree e trovare biglietti a prezzi convenienti per qualsiasi meta. Le tariffe dei biglietti aerei sono formulate da cervelloni elettronici, i quali con un calcolo algoritmico che incrocia orari, costi di volo e prenotazione dei posti disponibili sul vettore, formulano il prezzo dei biglietti che viene aggiornato con cadenza giornaliera. Da sfatare quindi il mito della ricerca del volo più conveniente nei giorni di martedì e sabato o durante alcune ore della notte. Anche la tecnologia più avanzata può però commettere errori. Il sistema elettronico può infatti non caricare sul costo le tasse aeroportuali, il prezzo del gasolio, assegnare il prezzo di una rotta breve a una rotta molto più lunga o pubblicare il costo di un biglietto di migliaia di euro con qualche zero in meno. Parliamo dell'error fare, letteralmente tariffa sbagliata, che talvolta può essere pubblicata anche sui siti delle agenzie di viaggio per errori di digitazione. Se un utente trova una tariffa determinata dall'error fare ed acquista il biglietto, sarà difficile che la compagnia aerea possa annullarlo e rimborsarlo. Alcuni siti si sono specializzati nel segnalare le error fare e tramite l'iscrizione alle newsletter è possibile essere allertati tutte le volte che si verifica l'errore. Tanta pazienza e una buona dose di fortuna possono regalare il viaggio dei propri sogni a prezzi inimmaginabili. E allora buona ricerca e buon viaggio!